Puntuale anche oggi torna il nostro appuntamento dedicato a salute e benessere in cui cerchiamo di darvi consigli più diversi grazie agli esperti presenti nei nostri studi. Oggi parliamo del trattamento delle malocclusioni con il dottor Armando Meccariello, don Toiatra che innanzitutto saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per l'invito e grazie a tutti i telespettatori di Otto Channel. Dottore partirei subito spiegando cosa si intende per malocclusioni. Allora la malocclusione è un disordine della posizione dei denti in bocca ad una persona. Una malocclusione può essere sia scheletrica che dentale, cioè dovuta ad un incorretto sviluppo dei macellari oppure solo legata ad un malposizionamento dei denti. La lingua è un organo fondamentale all'interno dell'apparato stomatognatico che è deputato alla masticazione, alla deglutizione e alla fonazione. La lingua è un muscolo ed è quindi il principale apparecchio ortodontico che noi portiamo dalla nascita. Perché? Essendo un muscolo agisce sempre in bocca e sulle ossa macellari durante la masticazione, durante la deglutizione e durante la fonazione. Quindi è grazie alla lingua che si decide lo sviluppo dei macellari e la posizione dei denti in bocca ai pazienti. Parliamo delle cause di una scorretta postura o funzione linguale. Vediamo l'elenco e con lei spieghiamo perché. Prima cosa stile di vita, quindi allattamento artificiale protratto, svezzamento ritardato o dieta povera di cibi solidi. Perché tutte queste cose influenzano su una scorretta postura o funzione linguale? Il biberon favorisce l'insorgenza di una scorretta funzione linguale perché non fa sviluppare una deglutizione naturale al neonato. Il neonato ha bisogno di succhiare dal seno della madre perché così sviluppa i muscoli periorali e i muscoli linguali e quindi per ottenere una corretta deglutizione. Invece con il biberon purtroppo ingoia i cibi senza sviluppare questi muscoli. In questo elenco poi troviamo abitudini viziate, succhiamento del pollice, ciuccio, biberon, quindi quello che un po' accennava già adesso. Il succhiamento del pollice per esempio provoca una posizione bassa della lingua all'interno del cavorale. Posizionandosi bassa la lingua non determina lo sviluppo del palato che rimane così contratto sviluppando quindi delle malocclusioni. Tra le abitudini sbagliate in elenco troviamo anche disfunzioni neuromotorie, fattori ereditari nonché rinite, sinusiti, tonsillite. Diciamo più che abitudini anche dei problemi che in qualche modo possono diventare una concausa. Sì, sono problemi legati alle vie respiratorie alte che anch'esse provoca una posizione bassa della lingua all'interno della bocca e che quindi non determinano lo sviluppo del palato. Stessa cosa in caso di problemi neuromotori, in pazienti quindi che hanno lesioni cerebrali. Un altro problema che viene scarsamente diagnosticato è quello del frenolo linguale corto. In che consiste? Sarebbe quella cordicella che tiene attaccata il ventre della lingua al pavimento della bocca. Questa cordicella molto spesso nei bambini appena nati è molto corta e quindi mantiene la lingua ferma, bloccata sul pavimento orale senza sviluppare una corretta degludizione perché la lingua deve essere portata in alto verso il palato. In questo ci viene in aiuto la terapia mio funzionale, in che consiste e qual è lo scopo? La terapia mio funzionale è eseguita dal logopedista che è un professionista medico esperto proprio nel trattamento dei disturbi del linguaggio e dell'utilizione. La terapia mio funzionale consiste in esercizi per rieducare la lingua e quindi ottenere una corretta postura linguale. Di qui l'importanza anche di un approccio multidisciplinare, quindi del team ortodontista-logopedista. Esattamente, è fondamentale un approccio, un team costituito dall'ortodontista che individua la malocclusione e individua i dispositivi necessari per trattarla e per curarla ed è fondamentale in contemporanea il ruolo del logopedista per individuare e trattare le disfunzioni linguali. Abbiamo visto al di là dei problemi, come può essere l'arnirite, altri problemi che non dipendono da noi, abbiamo trovato anche delle abitudini sbagliate. In che modo possiamo fare prevenzione? La prevenzione innanzitutto è, nel caso in cui è necessario effettuare un allattamento artificiale, utilizzare dei biberon con una tettarella anatomica, che ormai per fortuna sono vendute in tutte le farmacie e parafarmacie, basta soltanto scegliere. Quindi l'importante è essere informati su quelle che potrebbero essere in un futuro le conseguenze di alcune piccole abitudini a cui non pensiamo. Esattamente, oppure nel caso del succhiamento del pollice la prima cosa è cercare in tutti i modi di rimuovere l'abitudine viziata, con qualsiasi strumento artigianale. In questo caso parliamo dei bambini, a che età poi si manifestano le disfunzioni che portano poi alla fine al classico apparecchio, questi bambini che odiano il dover mettere l'apparecchio in realtà basterebbe prevenire, come sempre. Esattamente, è importante un controllo dai quattro anni in su del bambino, un controllo sia da parte dell'ortodontista che da parte del logopedista per intercettare queste problematiche e quindi evitare un'ulteriore evoluzione negativa del problema. Per gli adulti invece che non hanno effettuato quindi da piccoli dai quattro anni in su questo tipo di controlli, cosa si può fare? In che modo si interviene? Si può intervenire anche con una terapia mio funzionale, sicuramente i risultati non sono eccellenti ed ottimali come quando si interviene in un bambino oppure in un adolescente perché ormai il sistema neuromuscolare nell'adulto è sviluppato e quindi è difficilmente modificabile effettuando degli esercizi. Quindi necessariamente si devono ottenere dei trattamenti di compromisso ortodontico che richiede interventi chirurgici e estrazioni dentarie per risolvere le malocclusioni. In questo caso dunque è fondamentale quando parliamo degli adulti, innanzitutto il dialogo tra il medico e il paziente per capire in quale momento possiamo dire molto semplicemente che tipo di danno dobbiamo affrontare e che tipo di obiettivo vogliamo e possiamo raggiungere. Esattamente, nel confrontarci con il paziente bambino e adolescente è fondamentale che anche il genitore sia informato e motivato nel trattamento combinato tra ortodontico e logopedico. Lei diceva per gli adulti che non hanno effettuato in tempo un intervento di prevenzione non è possibile poi ottenere sempre gli stessi risultati? Si, si devono ottenere dei trattamenti comunque di compromesso che a volte richiede anche il sacrificio di elementi dentari sani che devono essere estratti per riposizionare correttamente i denti oppure anche di interventi chirurgici per modificare proprio le ossa macellare, le basi osse macellare. Appare evidente invece che il discorso cambia quando parliamo dei bambini perché intervenendo in tempo, quindi lei diceva i controlli devono partire sin dalla teneretà, già a quattro anni, si può ottenere invece un importante risultato? Sì, ovviamente se si interviene in tempo si ha una risoluzione al 100% del problema, quindi con mezzi molto meno invasivi, un semplice apparecchio ortodontico e dei semplici esercizi di terapia mio funzionale. Volendo ricapitolare, quali sono i punti fondamentali che gli amici a casa che ci stanno seguendo devono ricordare? Allora, fondamentale essere informati e conoscere questo tipo di problematiche, evitare quando è il più possibile un allattamento artificiale e un corretto svezzamento del bambino, quindi il passaggio da una dieta liquida ad una dieta con cibi solidi. Inoltre è fondamentale recarsi costantemente dal bambino. Quindi fare controlli periodici. Scusa, ripeto. Quindi è fondamentale fare controlli periodici. Ho un'ulteriore curiosità però per quanto riguarda le cause di una scorretta postura o funzione linguale, perché tra queste cause, tra quelle che sono le abitudini più sbagliate, come abitudini viziati, stili di vita scorretti, troviamo respirazione orale, laddove si intende rinite, sinusite, tonsillite. Cosa possiamo fare? Si tratta purtroppo di disturbi molto frequenti nei bambini e che in qualche modo non possiamo evitare. I pazienti con problematiche delle vie aeree superiori, quindi a livello del naso e della gola, molto spesso hanno un aspetto del volto che viene definito facessa adenoidea. Molto spesso il paziente si presenta con delle occhiaie, con un naso stretto e con una bocca sempre aperta, con delle labbra screpolate. Questo perché il bambino respira non con il naso come è normale, ma con la bocca. Respirando quindi con la bocca la lingua non sviluppa una corretta funzione perché sta sempre bassa all'interno del cavo orale e quindi non determina uno sviluppo del palato del paziente. Infatti molto spesso questi bambini hanno un palato detto ogivale, ossia punta a forma di V. È molto contratto. Tra l'elenco abbiamo visto rinite, siamo in primavera, rinite allergiche. Come comportarsi? Curare quindi prima la rinite per evitare poi che ci siano disfunzioni? Sì, prima di tutto è fondamentale nel bambino ovviamente quando presentano delle apnee notturne, cioè si riconosce perché il bambino è sempre stanco e soffre a sonnolenza durante il giorno e poco attento a scuola, quindi fare una visita dall'otorino la ringoiatra per individuare questo tipo di patologie. Dottore, in particolare per quanto riguarda le rinite che troviamo nell'elenco degli stili di vita, dei problemi che possono causare una scorretta postura o funzione linguale. Come fare? Siamo in primavera, rinite allergiche, molti bambini, gli adolescenti che ne soffrono? Innanzitutto è importante individuare la patologia in tempo. I bambini con una respirazione orale si distinguono per una facies adenoidea, quindi con delle occhiaie, sonnolenza diurna, scarsa concentrazione a scuola. Inoltre presentano sempre delle labbra screpolate perché ovviamente respirano con la bocca e quindi le labbra non sono mai umide e tendono a screpolarsi. Quindi il genitore deve individuare questa problematica del bambino e si deve recare dall'otorino la ringoiatra. L'otorino la ringoiatra effettuerà un esame obiettivo e strumentale per individuare e quantificare la respirazione orale del bambino e risolvere queste patologie. Inoltre sarà pure d'aiuto il ruolo dell'otorino la ringoiatra nel inviare il paziente bambino e quindi anche i genitori da un ortodonzista e da un logopedista. In questo caso in genere come si interviene? Naturalmente noi come sempre nel corso di questa rubrica parliamo molto di casi generici, poi l'approccio deve essere multidisciplinare e soprattutto specifico per ogni persona, per ogni paziente, per ogni piccolo paziente. Il trattamento può essere semplicemente medico con l'utilizzo di farmaci oppure anche di semplici cure termali. Nei casi più gravi di apnee notturne che non vengono risolte attraverso questa terapia medica non invasiva si richiede comunque un intervento chirurgico di asportazione delle tonsille e delle adenoidi. E allora grazie, grazie al dottor Armando Meccariello per essere stato con noi e per i suoi consigli. Buona giornata. Grazie e con voi appuntamento alla prossima rubrica dedicata a salute e benessere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.